E' stata aperta al traffico nella mattinata di giovedì la pista alternativa realizzata lungo la strada provinciale 342, importante arteria provinciale che collega il comune di Gimigliano a Catanzaro, chiusa al transito per questioni di sicurezza dopo l'andata di maltempo che ha colpito il territorio a fine gennaio. Presenti il presidente della provincia Enzo Bruno, il sindaco di Gimigliano Massimo Chiarella, il dirigente capo della protezione civile regionale Carlo Tanzi, il delegato provinciale alla viabilità Francesco Severino ed il dirigente provinciale del settore viabilità Floriano Siniscalco. La pista è stata aperta al traffico dopo una serie di capilari indagini e monitoraggio diretto 24 su 24 attraverso un presidio della protezione civile che continuerà a tenere sotto controllo il movimento franoso per intervenire in caso di emergenza consentendo ai cittadini di ritornare alla normalità. Assolutamente questo tratto di strada non si poteva interrompere, una strada strategica e quindi come spesso accade bisogna convivere con i fenomeni franosi, con i fenomeni ideologici. In questo caso noi effettuiamo costantemente il monitoraggio di questa frana, monitoraggio visivo, quando ci stanno degli allerti a meteo si attiva un presidio con dei tecnici che stanno su questo posto e nel momento in cui si dovesse muovere la frana anche di un millimetro la strada, il traffico viene interrotto. Bisogna convivere con i fenomeni franosi, purtroppo le province sono state abbandonate dal governo centrale per una legge che secondo me deve essere completamente rivista e paghiamo questa conseguenza. Ecco bisogna ridare i fondi alle province per consentire attraverso i cantonieri di tornare a fare la manutenzione delle strade, dei tombini eccetera perché in queste condizioni insomma il problema si ripresenterà non solo qui a Gimigliano ma un po' in tutta la regione ma vediamo anche a livello nazionale un po' in tutte le regioni d'Italia. Sì un altro grande risultato, tra mille difficoltà siamo riusciti a togliere dall'isolamento Gimigliano e non solo ma tutti i paesi a nord di Gimigliano che da questa arteria sono serviti. Il fronte di Frana è un fronte importante che ci ha obbligati a monitorare sia il livello di rottura della Frana ma soprattutto ci sono voluti 12 giorni affinché i tecnici valutassero la riapertura attraverso una carreggiata da ricavare ai margini della SP e soprattutto sopra la frattura diciamo franosa.